Così va meglio? Sì. Chi siete? Siete della CIA? Buongiorno, sergente Blair. Volete dirmi che cosa succede? Diciotto ore fa mi ha chiamato il Dipartimento per la Sicurezza Interna per dirmi di parlare con un marina agli arresti. Pare si tratti di un attentato a New York. Il marine sostiene di avere informazioni per impedirlo, ma la parte migliore è che sostiene che accadrà oggi. Ed eccoci qui. Hai l'aria stanca? Voglio dire, sei proprio uno schifo. Chi è questo? È lui. È Solomon. E tu credi ancora che stia progettando un attacco a New York? Tu no. Perché? Perché l'ha detto. Ho letto il fascicolo. Sta cercando di pararsi il culo. Non sa quello che vogliamo. Un attimo, ascoltatemi. Poi seppellitemi pure. Non c'è bisogno di seppellirti. Sei già morto. Non sa quello che vogliamo sapere. Ci stiamo lavorando. Seguirò questa traccia. Ciò che farai è aiutarci a capire come sarà l'attacco. Coopera con noi e potresti riuscire a sbarazzarti di tutta la merda in cui ti trovi adesso. Quello che devi fare, Sergente Blackburn, è riempire le lacune. Ci siamo capiti. Quando hai sentito per la prima volta di Solomon e del PLR? È stato nove mesi fa. Operazione Sword Breaker. Curvistan Iraqen. Ok. Ti ascolto. Operazione Sword Breaker. PLR dovremmo andare in Iran, non in Iraq. Stanno attraversando il confine. Il PLR è il bersaglio giusto, ok? Non potrebbe essere più giusto. Misfit 1-3, qui Misfit. Stiamo avendo un problema. Vai smontare la squadra e portala subito al centro di raccolta. Qui 1-3, ricevuto, chiudo. Perché cazzo ci fermiamo qui? Il nostro obiettivo è 20 chilometri più a nord. Non lo so, Montes. Ok, usciamo in strada. Ok, andiamo. Buonasera. Siamo in ritardo per la festa. Dov'è il tenente? Gira da destra, di qua. Grazie. Ti chiedi mai per quale motivo questa parte del mondo sia sempre così incasinata? Signori, benvenuti. Come sapete abbiamo a che fare con ribelli del PLR dall'Iranio. Forti tensioni religiose. Ci terrei a ricordarvi che il popolo di questo paese non è l'erico. Il PLR sì. Alle 9.30 abbiamo perso contatto con la squadra Viper. Indagavano un possibile IED al mercato delle carni di spinza. Una brutta zona quella. Pensiamo sia coinvolto il PLR. Cercherete questi marine per fornire supporto. Richiedete casevac se necessario. Siete il pronto intervento, signori. Ho fiducia nelle vostre capacità. Troviamo questi marine. Affermativo. Andiamo. Siamo troppo indietro, signori. Troviamo questa pattuglia. Abbiamo un rapporto sul nemico in questo distretto. Aspettiamoci invece. Via. Ci sono delle vibrazioni da paura. Identificate i passaggi. Che cos'è? Una scuola. Giusto. Dimentico sempre che non ci sono scuole da dove vieni tu. Restate uniti. Occhio agli angoli. Cosa è stata? Qualcuno dovrebbe dire all'EOD di far saltare gli arsenali più lontani. Terremoto. Siamo a circa 90 chilometri da una grossa paglia. Grosso in croce. Molto esposto. Aspettate. Arriva qualcosa. Dietro. Aspettate che passi. Asad. Attraversare il... Black. Due Matkovici prendete la porta a destra. Ok. Andiamo. Più veloce, Black. Adesso. Non c'è neanche un civile. Non mi piace. Fuoco! Cecchino! Lancio fumogero! Dove cazzo è? Mortelo dentro! Veloce! Veloce! Ok. Mi restate in mano. Andiamo! Pecchino ancora vivo! Ancora! State giù! Da dove cazzo arrivano! Sì, cazzo! Sì, cazzo! Sì, cazzo! Sì, cazzo! Sì, cazzo! Continuate a sparare! Sparano! Aure 12! Sì, cazzo! 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 Amici in arrivo! Amici in arrivo! Cuoco a volontà su quel cazzo di edificio! Lec! Da me! Tango vicini all'edificio, all'estremità del colchetto! Vogliono girarci! In movimento! Laggiù! Laggiù! Cavalcano il muro! A destra! Contatto a sinistra! Centrato! Centrato! In movimento! Centrato! 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 C'è chi non è ancora vivo! Cessare il fuoco! Cessare il fuoco! Tutti dentro, subito! Ci siamo. Ehi, amico. Va bene. Saliamo. Occhio agli angoli. Spero che Chaffin stia bene. Si riprenderà. È un duro figlio di puttana. Un'altra scossa. Forse. Andiamo avanti. Occhi aperti. Siete da soli. Siamo troppo esposti. Dobbiamo muoverci. Copertura. Copertura. Occhio alle minette. Fuoco! Eliminatelo! Non erano del posto. Non parlavano ara. Al-Bashir ha iniziato a esportare il meglio della ribellione iraniana qui. Non ne ho idea. Saliamo su quel tetto. Misfit 1-3. Qui è Misfit. Il cecchino è ancora lassù. Fate attenzione. Libero. Libero. Andiamo. Merda! Contatto! Qualcuno lo vede? Non lo vedo. Amico, è un accazzo di 50. A terra! Giù! L'hotel! Credo sia l'hotel! Andiamo! State al riparo. Lo staneremo da lì. Pronti. Muoversi! Ok, andiamo. Vado. Ok, andiamo. Vado. Su quel maledetto terratto. Arriviamo fino al bordo. Lui tira fuori la testa e noi gliela facciamo saltare. Roger. Contro il muro. Black, aspetta quando siamo in posizione. Non accalcate. Andate avanti. Dimmi qualcosa, lo vedi? Ci sono. Black, ora! Ecco il cecchino! Ok, ok! Oltre la strada, 50 metri a metà altezza, è trincerato in un nascondito. Anticarro! Dallo a Black! La copertura fa acqua! Sei il migliore! Appena vedi il riflesso dell'arma, lo fai fuori. Vai a segno, amico! Io ti copro. Tu gli spari. Liberare la fiammata! Attendere! 3, 2, 1, soppressione! Bersaglio centrato! Via libera? Via libera. Cerchiamo la pattuglia. Misfit 1-3, qui unità medica. Abbiamo medicato il vostro uomo e ci apprestiamo a portarlo al centro di raccolta per l'evacuazione. Potete fornire copertura dalla su? Certo, unità medica. Quale direzione? Passo. A nord. Misfit 1-3 in posizione. Sembra tutto libero. Roger, ci muoviamo. Passo. Occhi aperti per ostili. I nostri uomini sono parecchio esposti laggiù. State in guardia. Vedo nemici a livello strada. Al riparo, eliminateli 1-3. Sui balconi, a sinistra. Pango al futetto, dritto davanti. Ok, ci muoviamo. Altri uomini in arrivo. Occhio alla strada e ai tetti. Credo sia libero, Misfit 1-3. Ci muoviamo, chiudo. Vi copriamo noi. Siete liberi. Starai scherzando. Let's go. Misfit 1-3, qui Doc Holiday. Grazie mille, siamo passati. Ci occuperemo del vostro amico. Passo. Adesso si muovono verso di noi. Credo siano nell'edificio. Possiamo andarcene da questo cazzo di te. Roger, non da dove siamo venuti, troppo incasinato. Dobbiamo trovare un'altra amica. Non ce la faremo mai. Usiamo questo come ponte. Avatti. Dannato boy scout. Via, via, via! Misfit 1-3, qui Misfit. Qual è il vostro stato? Passo. Un contrattempo. Sverso la posizione, passo. Andiamo avanti. Spero stiano bene. Che succede se il PLR prende il controllo? Non amo l'idea di una nazione governata da terroristi. Amico, l'America è stata fondata da dei terroristi per dei terroristi. Cosa credi fosse la guerra d'indipendenza? La storia la scrivono i vincitori. Come hai fatto a diventare un marino? Lo sai, campo? Me lo chiedo spesso anch'io. Merda, contatto! È la pattuglia. Due di loro. Restate concentrati. Restate concentrati. Merda, qui ci sono morti e feriti. Ricevuto. Caposquadra Misfit, qui 1-3. Serve subito case, vabbia. Ricevuto? Ricevuto 1-3. Posso aiutarvi, tenete duro. Chiudo. Questa cosa non mi quadra per niente. Già, c'è qualcosa. Non va affatto bene. Qui ci sono esplosivi. Secondario ricevuto. A cazzo, stiamo attirando un po' troppa attenzione qui. Qual è il problema? Non riesci a tagliare il cavo. Non posso tagliare niente se il cavo è tracciato. Blackboard, tocca a te. Segui il cavo. Blackboard, è tutto chiaro? Segui quel dannato cavo. Tutto bene, là? È solo un'altra maledetta scossa, niente di cui preoccuparsi. 1-4 è qui come rinforzo. Taglia quel cavo. Taglia quel cavo. Blackboard, siamo sotto il fuoco delato di armi leggere. Torna su! Tower, nel passaggio! Mi spedro. вам partito a questa linza. Zero. Con la vostra posizione i vostri bersagli. Siamo in arrivo. Hey! Sali sul muro e usa la mitagliettrice! Sali sul muro. Ehi! Eh! Seguarda che martello! Dov'è il canale va? Grenada! Temp-1-3, qui è Falcone! Siamo sopra la vostra posizione! Faccio frenada! Regnaliamo il di via! Passo frenada! Veicolo nemico in arrivo da Nord! Andiamo! Guarda ancora in terra! Mi ha veduto 3 coinvisibili, scusiamo un tramicodassalo. Adesso vanno preso! Si ritirano! Si ritirano! NISBIT 1-3, QIORN 5-0. Vediamo molto movimento da l'est diretto alla vostra posizione. Oh, cazzo, ci arriviamo a dire diretti! Forza, forza, ci stanno schiacciando! Andiamo, via, via! Là! Quella notte la merivinco! L'exbar, usa quell'arma! Ci sarga subito il fuoco di sopportire sulla strada! Cazzo! Terremato! Forza, andiamo, cazzo! Perfetto! Perfetto!